Il Governo studia le misure volte alla riapertura, via libera agli spostamenti fra regioni colorate di giallo, mentre per le altre sarà necessario una sorta di passo in corso di definizione. Non cambiano le regole per raggiungere le seconde case, mentre si valuta la possibilità di spostare il coprifuoco un'ora più avanti con l'ok per i ristoranti aperti a cena se hanno spazio all'aperto. Tutto questo mentre, in attesa del 26 aprile, cambiano i colori di alcuni territori. Passa finalmente in arancione la Campania, la cui economia ha risentito e non poco dello stop. Finalmente abbiamo il commercio aperto. Aspettiamo i nostri clienti, la situazione di calma piatta. Un primo dato purtroppo negativo è che il 10% dei commercianti che era giusto non ha avuto la forza di riaprire. In rosso solo tre regioni, Sardegna, Valle d'Aosta e Puglia. In arancione tutte le altre. Sono molte le regioni che puntano a raggiungere a breve la zona gialla, anche se in modalità rafforzata, dopo che il Premier Draghi ha annunciato che il passaggio sarà possibile, come detto, dal prossimo 26 aprile, in anticipo rispetto a quanto previsto in precedenza. Rimane la possibilità di costituire zone rosse locali e comunali con limitazioni più restrittive rispetto a quelle previste per l'intera regione o provincia.